Allora, partiamo dalla prestazione. Tre gol, tre punti, vittoria fondamentale. Sì, penso di sì. È una vittoria che volevamo a tutti i costi. Secondo me abbiamo fatto molto bene la fase di possesso. Probabilmente abbiamo sbagliato qualche scelta a livello tecnico. Abbiamo preso qualche ripartenza, però insomma, sulla vittoria, su quello creato, su quello costruito, niente da dire. Abbiamo avuto una decina di occasioni clamorose, mi hanno colpito tre pali, quindi merito ai ragazzi che hanno fatto un'ottima gara. Poi non era affatto semplice perché lo Sheriff arrivava in grande forma, in salute, ma avete dominato e, come ha detto anche lei, ha creato di nuovo tantissime occasioni. Beh, senz'altro. Sapevamo dell'importanza della gara, dell'importanza dell'avversario, perché secondo me non si vince a caso due partite contro lo Shakhtar e l'Almadri che le abbiamo affrontate. Abbiamo visto che sono squadre importanti, però siamo stati bravi e siamo contenti di questa ottima vittoria. Mi stanno anche una statistica. Con Stefan de Frey, ora sono 12 marcatori diversi questa stagione. Una vera cooperativa del gol. Tutti sono coinvolti. Mi fa piacere. Adesso stanno rientrando anche giocatori che erano fuori. Per me, da allenatore, è molto, molto positivo perché ho la fortuna di avere scelte e di volta in volta sceglierò la formazione migliore di mandare in campo. Prossima domanda. Ultimissima domanda da studi. C'è Walter Zenga. Per noi, Walter, riporto io la sua domanda. Saluto il mister. Ciao Simone. Voglio dirti una cosa. Su 29 tiri, nelle statistiche ce ne sono solo 8 nello specchio della porta. Com'è possibile che se abbiamo preso tre pali e abbiamo fatto tre gol, solo 8 nello specchio della porta? Mi sembra una statistica leggermente errata, ma se fosse corretta, probabilmente questa è una statistica da migliorare. Perché se tiri 29 volte in porta, vuol dire che ne crei tante di occasioni, ma dovresti prenderla anche un po' di più la porta. Tu dal tacchiante puoi mantenere, quindi non rispondireai. Senz'altro sono d'accordo con te, Walter. Nel senso, 29 stasera, 16 o 18 con Real Madrid. Sono 45-46 tiri, hai fatto solo tre gole nelle due partite a San Siro, quindi è un altro aspetto dove dobbiamo sicuramente migliorare. Insomma, tu lo sai benissimo, cercheremo in allenamento, quando lo si può fare, di allenarci. Perché giocando così tanto e con le nazionali non è semplicissimo, però sappiamo che è un aspetto dove dobbiamo migliorare. Mettigli il mirino nelle scarpe, va? Le fa un momento di complimenti, mister, per la prestazione stasera. Grazie. Grazie, grazie a voi. Ciao, Walter. Ciao, ciao.